Cosa eravate tre anni fa? Cosa sarete tra dieci? Cosa siete sempre stati in fondo al vostro cuore? Io sono un grafico! Piripiello, vieni! Quante volte glielo devo dire? Mi chiamo Priel! Eh, ma si chiunque cagliata io un'altra! Sono convintissimo che quest'ultimo sforzo incontrerà senz'altro i suoi gusti. Tu lo vieni a scienca. A faccia mia, a così grosso, a dei cangop. Questo è il contest del secolo. Tu ti iscrivi al sito, posti un messaggio e loro ti domandano nello spazio. Sei qui per un colloquio di lavoro. Teletrasporto! Sono stato ravvito dagli alieni! Facci il caffè per tutti e tre! Mi hanno assunto come grafico nello spazio! Una figata pazzesca, Fabio, la dovete vedere? Andiamo a fargli il culo. C'è una cosa che devo dirti da tanto, tantissimo tempo. Comprare una rosa? No, grazie. Siamo fratello e sorella. Anche io ho sposato mia sorella. Io ho regalato mille fiori. Non solo è un'imperto di lavoro. No solo è un'imperto di lavoro. Non solo è un'imperto di lavoro. E noi